Questa è una skin molto particolare perché l'attacco dovrebbero essere delle gemme, mi è sembrato di vedere dal Brawl Talk E in arraffa gemme è un po' particolare, ok? Che si vede che le gemme non sono le stesse, però quasi quasi un test lo farei Ok, ci sono un po' di gemme nel centro, proviamo a sparare E sì, dai, si vede che sono abbastanza diverse, però, sì, è comunque un po' particolare, no?